La Commissione Affari Istituzionali dell'ARS ieri sera ha dato il via libera al disegno di legge sulla doppia preferenza di genere. Ma nei momenti cruciali mancavano deputati della maggioranza e per questo sono stati i parlamentari del PDL di Cantiere Popolare e gli autonomisti a garantire il numero legale in commissione e far fare così un passo avanti alla legge. Oggi in sala stampa a l'ARS una piccola resa dei conti con gli onorevoli di opposizione che hanno rivendicato la loro presenza e il loro lavoro. È un dato di fatto che il PD ha abbandonato i lavori della commissione, noi siamo rimasti in commissione. Se anche noi ci fossimo allontanati dalla commissione sarebbe venuto meno il numero legale e di conseguenza ieri sera la legge non sarebbe stata approvata. Ancora più duro nei toni Vincenzo Figuccia del partito dei siciliani. Noi rivendichiamo il lavoro svolto in commissione, l'opposizione generalmente tende a fare un lavoro di critica, critica costruttiva. E io oggi avrei due pagelle, una per il governo con un 8 più per questa norma che introduce la doppia preferenza e la parità di genere. Un 4 meno meno invece per i partiti di maggioranza in testa del PD, i quali con un atteggiamento assolutamente arrogante hanno disertato i lavori d'aula, apprendo dai giornali di oggi che c'è stato un malinteso sull'andamento della commissione, ma mi sembra che le cose non siano andate così. La nuova legge sulla doppia preferenza di genere prevederà che per i consigli comunali si possa esprimere un voto per un uomo e un voto per una donna. Per dare tempo all'Assemblea di approvare definitivamente il disegno di legge, ieri la Giunta regionale ha deciso che in Sicilia si voterà per le amministrative il 9 e il 10 di giugno. Il turno di ballottaggio si terrà invece il 26 e il 27 di giugno. Grazie.